cari amiche cari amici all'ascolto allora e alla visione naturalmente siamo alla sedicesima puntata di Speed Stop per parlare naturalmente del Gran Premio di Miami che si è corso nella notte di ieri domenica con un orario questo qui molto particolare dalle dalle dieci dalle ventidue ora italiana non sarò in compagnia di eh del nostro Marco Santini che ha avuto un impegno all'ultimo momento ma adesso vorrei dire che presentarvi l'ospite che eh insomma ci farà compagnia graditissimo ogni tanto torna a farci compagnia eh ospite che tra l'altro ha dato qualche buca ai colleghi si dice così in in gergo giornalistico quando tu le dai le buca cioè quando tu le anticipi cioè anticipano ti se gli altri non la danno allora gli altri si beccano la buca e questo è un residuo di quando facevo il giornalista a tempo pieno e e che tra l'altro ci ha raccontato anche il periodo critico di dell'uscita di di binotto e che ci ha anche anticipato fra gli altri che nuovi salutava anche se non sappiamo verso quale destinazione quindi saluto eccolo qui il nostro Luigi Perna ciao Luigi come stai il nostro in senso affettuoso della gazzetta naturalmente allora tutto bene sto sto bene e scrivo delle delle di una stagione di Formula 1 dove colpisce non sono mancati da Hamilton alla Ferrari a Newy che lascia la Red Bull quindi allora ma già è strano già è strano Luigi che abbiamo in sei gran premi è strano perché non siamo più abituati tre tre macchine diverse che hanno vinto cioè voglio dire tu pensa come siamo ridotti no ma la verità è che Versa per un po' l'aveva anticipato dicendo che questa stagione non poteva essere del tutto simile a quella dell'anno scorso dove la Red Bull ha vinto tutte le gare meno quella di Singapore vinta da Sainz sulla Ferrari però alla fine le prestazioni della Red Bull sono sempre di un livello tale quelle di Versa appena anche che sembra che lui possa vincerle tutte le gare in realtà abbiamo visto in sei gran premi anche altri due vincitori lo stesso Sainz a Melbourne e questa sorpresuna di Norris ieri a Miami per cui non è proprio è un dominio ma non è proprio un monologo come l'anno scorso allora io vorrei l'ho scritto e lo dico davanti a Luigi chi scrive che il campionato è riaperto secondo me deve ha preso qualche sostanza da Walter White è voluta certo non c'è quel dominio sfissiante sino ad oggi dello scorso anno questo è chiaro però da qui a parlare che insomma il campionato si è riaperto ce ne passa è vero che è un campionato molto lungo ma oggettivamente io non vedo nulla che possa fermare la marcia di Max dato atto che sul ritmo gara ieri la Red Bull più di un problema l'aveva lui aveva molta difficoltà a portarla al limite non erano solo frasi di circostanza ha preso un birillo insomma non riusciva a portarla al limite tanto che arrivata la safety car e qui arriveremo al tema della puntata cioè il sedere il sedere in senso fisico in senso metafisico diciamo così Luigi cioè quando capita una cosa e tu ti trovi lì e ne approfitti però Norris ha aperto un gap molto importante e quindi non c'è riuscito Max non è riuscito in nessun modo a ricucire quel gap e poi abbiamo visto anche Perez che alla fine dei conti stava per essere acciuffato da Hamilton sì secondo me c'è anche un po' di componente legata al circuito di Miami che è comunque uno stradale un cittadino atipico era molto scivoloso l'asfalto tutti avevano poco grip c'era anche poco degrado di conseguenza però questo poco grip Max lo ha sofferto stranamente alla Red Bull non era non era efficace come al solito quindi i meriti degli altri cominciano laddove ci sono i meriti della Red Bull però appunto vi va dio che ci sono occasioni del genere dove il risultato diventa sconfessa un po' il pronostico e la gara diventa un po' rogambolesca poi c'è il fattore C come hai detto tu perché a un certo punto la safety car bisogna coglierla quando esce e l'accolta Norris un fattore C che però ti dirò nel caso di Norris si accompagna anche ad un fattore merito perché poi se vuoi andrò nel dettaglio lui non soltanto a tante altre volte si era visto sfuggire delle grandi occasioni ma in questa circostanza è stato anche bravo tatticamente ha avuto una felice intuizione a un certo punto della gara ma senti Luigi questo era il centodecimo gran premio qualcuno pigliava anche in giro Norris perché non aveva vinto neanche una gara però vorrei ricordare che Norris si è trovato in un'epoca fra due fra due domini esfissianti cioè quello Mercedes e quello Red Bull cioè voglio dire non è che potesse avere chissà quale opportunità basta vedere cosa hanno vinto gli altri in questi anni praticamente niente briciole e quindi era anche inevitabile che ci impiegasse molto tempo per arrivare alla vittoria in qualche modo non so se il karma esista ma non so se sei d'accordo con me in qualche modo poi il cerchio si chiude perché prima o poi diciamo ti può capitare la giornata che ti mette nell'occasione di poter vincere sì e d'altra parte in sei stagioni di Formula 1 Norris aveva fatto otto secondi posti non è poco il fatto che ieri tutti fossero contenti della sua vittoria non è solo legato al fatto che lui è un pilota molto simpatico è un bravo ragazzo quindi anche molto amato dai colleghi ma anche al fatto che tutti quanti i colleghi erano un po' partecipi di questa sua di questo suo digiuno di questa sua mancato appuntamento con la vittoria che lo rendeva un eterno secondo detto che se Maxi era avesse vinto sarebbe stato contentissimo non so voglio dire perché sai che lì poi ok c'è tanto magari è vero ma c'è anche tanta diciamo ipocrisia in questo mondo no perché ovviamente uno è contento quando vince gli altri gli ne può fregare di me no come si può dire però ti dirò secondo me se proprio qualcuno doveva strappargli una vittoria forse è meglio Norris che è un suo grande amico e quello con cui gioca di più nel fatto che sei più cosa sempre restando nei limiti come dici tu di una formula 1 dove gli amiconi non esistono più perché poi questi piloti non è che si frequentino così tanto fuori da sì è vero questa è una cosa interessante noi quando noi abbiamo cominciato a seguire la formula 1 e forse prima in realtà l'ambiente il paddock era un ambiente un po' più chiuso in cui però diciamo i piloti in realtà si frequentavano molto adesso è diventato magari un po' più espanso per le dimensioni per il gioco della formula 1 a livello mondiale però poi questi piloti hanno i loro addetti stampa c'è una vita molto molto una bolla no ognuno di loro è come se fossero una bolla no eh sì per loro si sono moltiplicati anche gli impegni con i media con la stampa con gli sponsor impegni promozionali sono dei veri e propri uomini immagine dei team per cui ore e ore passate in questa attività poi mi tolgono magari anche il gusto della goliardia dell'uscita insieme per fare un po' di casino e poi sono sicuramente più professionisti non tanto più professionali o più professionisti sono più rigorosi nella loro professionalità rispetto ai piloti degli anni 80 e 90 che erano comunque molto più avventurosi tra virgolette molto più eccentrici noi ci ricordiamo le interviste folli a piquet che può starci simpatico ma ne diceva ne diceva di tutti i tipi molto più ecco direi molto più naif nel modo di intendere la vita del pilota d'altra parte bisognava essere un po' così perché si rischiava tantissimo quindi era un modo per scaricare in qualche modo era un modo per esorcizzare secondo me la paura e sì che allora ovviamente poi abbiamo ricordato proprio 30 anni della morte di razzenberger e di senna è chiaro che poi adesso ce ne rendiamo conto ma quando seguivamo le gare fra gli anni 80 e 90 erano davvero pericolose poi nel 94 avevamo davvero dei mostri di potenza che insomma abbiamo avuto tanti incidenti brutti che ci segnalavano che probabilmente si era superato si era superato il limite in qualche modo no e quindi c'è stato un prima e un dopo come dicono tutti gli incidenti dopo Imola 94 mettiamola così certo ascolta volevo chiederti mi hai dato diciamo il gancio per parlare di ilarità e a me viene in mente Vasseur con il cappellino arancione che va a festeggiare con la McLaren allora non voglio sembrarti un bacchettone ma non ti è sembrato un po' eccessiva questa roba tenendo conto che Vasseur è un personaggio che è molto diverso caratterialmente rispetto a un binotto eccetera però forse sai faccio il come si può dire il bastian contrario non è che magari un tipi ferrari ecco sì ok siamo contenti punto tu cosa ne pensi di questa cosa queste immagini che sono la rete ma in effetti Vasseur è una si è verso il cappellino tipo bandana no sì sì ma lui si lascia spesso andare a queste esternazioni goliardiche gli piace scherzare anche con i piloti eh i tentativi se lo ricordiamo sparare le piste diciamo i fucili ad acqua quelli che sì 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 diciamo che non perdiamo occasione per metterli per metterli incroci in qualche modo eh ma anche ma è anche però una maniera da parte sua di sdrammatizzare un un clima eh che comunque quando parli di Ferrari è sempre improntato alla pressione alla la paura di sbagliare alla tensione del risultato eccetera eccetera per cui da un certo punto di vista ci sta anche eh è comunque un suo modo di intendere eh il suo lavoro l'importante è che poi eh quando le cose i giochi si fanno seri lui sia sul pezzo e sinceramente finora in questo anno è per poco più di Ferrari gli si può dire poco o nulla eh la sera ha fatto crescere il team la squadra è molto meglio organizzata anche ieri eh strategicamente un'ottima chiamata eh per l'Undercut che ha riportato le Clerc virtualmente davanti a Piastri dopo aver perso la posizione al via per quel lungo di Perez che ha ostacolato le due Ferrari quindi comunque al muretto sono svegli sono tranquilli eh la macchina sta crescendo bene adesso aspettiamo gli sviluppi di Imola per vedere se eh il primo vero pacchetto di sviluppi porta un'accelerazione delle prestazioni e poi cavolo si sta muovendo benissimo dietro le quinte sul mercato qui arriviamo a una cosa importante che adesso ne parleremo proprio a chiederti una cosa non è che forse è stata un pelino troppo anticipata la chiamata di Leclerc al netto del fatto che non puoi mai sapere quando entra un safety car però sai un circuito cittadino dove ci sono già state volte incidenti perché alla fine era lui quello che aveva le gomme più più usurate per quanto però sai in quel momento cioè eh voglio dire eri abbastanza lontano eh cioè voglio dire una safety car non si può prevedere eh non hai la spera di cristallo per cui eh aspettare il momento in cui aspettare il più a lungo possibile per beccare il momento in cui magari entra una safety eh non è scontato è una scommessa che fai è come tirare i dati ecco la scommessa è più facile la faccia un Norris che in quel momento è in stessa posizione che non un Leclerc che è lì per il secondo posto eh e in effetti la Ferrari doveva rimetterlo davanti e in qualche maniera l'ha rimesso davanti per cui eh no secondo me la chiamata ci stava eh poi ti ripeto il jolly eh tornando al fattore c è il fattore di inizio puntata l'ha colto Norris ehm perché perché chiaramente la safety car lo ha fatto balzare di colpo in testa alla gara eh però appunto dicevo all'inizio che c'è un fattore di merito e il fattore di merito eh si è visto quando a un certo punto poteva andare a marcare Perez perché lottavano per il quinto e il sesso posto e infatti gli avevano detto all'inizio no? Sì di rientrare i box e invece lui dice no andiamo avanti possiamo con il ritmo che abbiamo possiamo andare a prendere science e e e questo voler guardare avanti questo voler azzardare questo coraggio eh alla fine eh lo ha premiato perché nel nel essere stato l'ultimo che si è fermato eh quindi quello che è rimasto più tempo in pista ha colto la safety car che è arrivata che è arrivata poi al più avanti insomma. Ascolta osare fattore c io ti ti lancio una provocazione eh è una riflessione che ho fatto io e naturalmente è mia quindi come tale assolutamente opinabile. Allora McLaren arriva con un pacchetto non hanno il tempo per darlo a tutti e due i piloti con un aggiornamento lo danno a Norris e vince naturalmente con tutti se con tutti ma però abbiamo visto che poi la macchina in pista dopo safety car andava meglio della Red Bull di Verstappen. Ok. Io ho sempre questa impressione Luigi che probabilmente per i tanti anche errori fatti in passato nell'evolvere la monoposto questo team che più o meno amalgamato è lì dal 2014 qualche anno meno parleremo del reparto tecnico naturalmente uscito tutto quello che vuoi però spesso e volentieri hanno cannato il setup e allora non allora già con Vassor effettivamente osano molto di più non c'è storia lo diciamo tutti il trend è quello è molto positivo da questo punto di vista però resta sempre la mia impressione quella specie di zavorra della serie portiamo tanto non siamo in lotta per il mondiale voglio dire portiamo uno di due piloti il il pacchetto di che probabilmente debuterà a Imola e cominciamo già a conoscerlo vediamo se ci dà delle indicazioni positive cioè no no andiamo a Imola cioè sempre quasi una sorta di non so come dirtelo paura di essere criticati però poi alla fine diventi troppo conservativo no? Non so se ti ho reso l'idea del mio ragionamento. Sì io credo che eh nella scelta della Ferrari ci siano due considerazioni eh la prima è che in effetti vogliono quest'anno essere davvero sicuri eh di quello che portano in pista poi se questo si tradurrà in un miglioramento reale delle prestazioni lo dovremmo vedere sarà una verifica importante quella di Imola eh e il secondo è che c'è sempre questo budget capo con cui fare i conti per cui tu davvero non puoi più sbagliare un colpo non puoi permetterti di sprecare degli sviluppi o di avere dei pezzi che poi all'atto pratico non funzionano perché vuol dire aver investito dei soldi che poi devi andare eh a togliere da qualche altra parte di rinunciare magari nel corso della stagione ad altri investimenti prestazionali per cui quando fai una mossa deve essere il più possibile ponderata e loro quest'anno hanno ho la sensazione che vogliono prima capire davvero bene la macchina la base su cui eh lavorano prima di fare degli upgrade eh che eh debbano migliorare la prestazione perché non vogliono avere il rischio di partire da una buona base e poi peggiorare le cose anziché migliorarle eh quindi credo che questo sia la loro razio c'è una un ragionamento dietro eh se poi questo ragionamento sia conservativo eh puoi anche avere ragione da un certo punto di vista rispetto ad altri team che eh sono più aggressivi. Bisognerà capire se con il pacchetto di Mola vedremo davvero quell'incremento delle prestazioni che giustifica l'attesa. Ecco infatti è quella la cosa che poi aspettiamo un pochino tutti. Io dico sempre però non cerchiamo perché sai di battoste degli anni con l'evoluzione cerchiamo di non pensare. Io penso al bicchiere mezzo mezzo vuoto così poi se va bene sei più contento. No voglio dire. Stai ricordando il 2022 no a Imola che 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 non fu proprio. Eh sì. Quella quel crocevia della stagione che che sognavamo insomma. Infatti ma ascolta eh veniamo un po' eh invece al mitico al geniale Adrian Newy. Allora voi avete anticipato tu avete anticipato sulla gazzetta appunto che non si sa dove va però saluta effettivamente dopo qualche giorno sembrava cioè tu di no non è possibile poi attacca c'è beh noi ci salutiamo ok me ne sto un po' tranquillo poi si vedrà. Eh e allora la bomba è arrivata. Allora noi ci immaginiamo che Vassar già ha tirato fuori dal dal cilindro e Milton no? E adesso te l'immagini tu che che cosa succede se allora intanto già che non c'è più alla Red Bull diciamo tra virgoletta è un vantaggio per tutti perché ok non è che un uomo solo ti cambia tutto ma Luigi tu sei testimone di quanti campionati si sono vinti con le monoposto ideate da Adrian o dove ci ha messo lui le mani tanti tredici credo. Esatto. Dobbiamo partire. dobbiamo partire dalla Williams per arrivare alla Mercedes della fine degli anni 90 e poi per il progetto che è partito da zero in Red Bull siano arrivare i quattro anni di Fettel e poi adesso. Voglio dire è chiaro che chi se lo porta in casa ha un vantaggio cioè non è che ci nascondiamo dietro un dito no? E allora non è che ti voglio chiedere di svelare l'arcano magari non lo sai ma che impressione ti sei fatto di questa vacanza che secondo me durerà molto poco ma l'hanno fatto capire anche loro no? Ma innanzitutto da informazioni diciamo di dietro le quinte questa vacanza il fatto di dover parlare di vacanza di periodo di pausa era qualcosa di concordato con con Horner e con la Red Bull faceva parte insomma degli accordi che hanno portato consensualmente eh alla alla recessione anticipata del contratto no? Se vuoi. Eh per cui eh è chiaro che quando ci si è seduti a Milton Keynes in questa riunione fiume di svariate ore per decidere il futuro di Neuwey c'erano gli avvocati bisognava naturalmente bisogna procedere con una transazione anche economica perché il contratto scadeva alla fine del duemilaventicinque quindi c'erano ancora quasi due intere stagioni di matrimonio da dover consumare per cui alla fine sono arrivati ad un compromesso sia sulla sull'estensione ancora eh del legame eh del vincolo più che altro che a Neuwey che quindi si esaurirà alla fine di marzo il venticinque per cui sarà realmente libero solo il primo aprile del del venticinque e sia su altri dettagli che riguardano la comunicazione ovviamente perché questo addio non doveva doveva essere un addio soft non doveva dare l'impressione di essere il terremoto come tutti lo abbiamo giustamente interpretato eh un terremoto che insomma sconquassava la squadra e lasciava eh il team disarmato ecco per cui Neuwey intanto ha parlato eh di ehm periodo di pausa perché annunciare immediatamente un altro team avrebbe contribuito a questo terremoto a questo scossone no? A dare uno schiaffo alla squadra che lascia per cui non poteva fare altrimenti di fatto questo periodo di pausa sarà già una pausa perché eh è stata l'ultima volta che l'abbiamo visto in pista a Miami con tutta probabilità per non dire certezza eh e d'ora in avanti lui sarà sempre meno coinvolto sul progetto Red Bull Formula Uno completerà la RB dici a sette la vettura eh per i track days che sta mettendo appunto la Red Bull eh farà altri altri progetti di cui si occupa nell'ambito di Red Bull Technologies ma di fatto si allontanerà sempre più dal team e dalla Formula Uno quindi è già una sorta di periodo di gardening mascherato che arriva fino appunto a marzo del duemilaventicinque dopodiché New Way eh sarà sarà davvero libero e probabilmente a quel punto anzi quasi sicuramente a quel punto avrà già un altro team di Formula Uno come prossima destinazione anche di cui si parla non è la vela io penso che non sia la vela no no infatti poi lui dice appunto di una pausa per le prossime poi per le prossime sfide la prossima sfida non è certo per mare secondo me eh neanche per cielo è sempre solo Formula Uno per terra e ehm e tra l'altro secondo me eh c'è anche in quei tre mesi del dal gennaio duemilaventicinque al marzo duemilaventicinque eh che ancora in cui in cui ancora risulterà bloccato io vedo qualcosa che fa parte dell'accordo preso con la Red Bull perché di solito quando uno interrompe un contratto lo interrompe alla fine di un anno e dall'inizio dell'anno successivo è libero quindi a gennaio duemilaventicinque New Way poteva essere libero con un con una stagione intera di anticipo sulla naturale scadenza del contratto invece no gli hanno aggiunto tre mesi quei tre mesi guarda caso portano all'inizio di un nuovo campionato di Formula Uno e come se la Red Bull si fosse voluta tenere una finestra di vantaggio in modo tale che New Way non potesse partire nei primi tre mesi con una nuova squadra e con lo sviluppo soprattutto della vettura 26 che come sappiamo aerodinamicamente potrebbe essere sviluppata a partire da gennaio 25 quindi hanno un anno di tempo per svilupparla New Way avrà un anno meno tre mesi però Luigi lui insomma il cervello di un di un uomo come New Way non è che si può imbrigliare anche con tre mesi voglio dire ah di sicuro perché perché scommetto che New Way sta già pensando alle macchine del 2026 assolutamente voglio dire al simulatore in qualche maniera le stanno già provando inserendo dei dati delle previsioni eccetera eccetera poi non possono andare in galleria del vento ma New Way la galleria del cervello perché tanto lui si mette al tecnigrafo sul tavolo del disegno e tira fuori le idee perché ha fatto sempre così tu pensi che sia davvero possibile lo dicono tutti però naturalmente sin quando non si dice non c'è l'ufficialità si può solo ipotizzare che finalmente questo matrimonio che qualcuno dava sino a qualche mese fa assolutamente impossibile all'improvviso possa diventare una certezza nella parte finale della carriera di questo grande progettista punto interrogativo ma allora che cosa c'è di più affascinante perché provare a vincere con la ferrari dopo aver vinto con williams mclaren e red bull e voglio dire è un team così prestigioso che appunto deve affrontare una grande sfida quella di tornare alla vittoria al titolo mondiale che non può esserci progetto più allettante per uno come New Way anche come coronamento e completamento di una carriera incredibile senza uguali delle progettisti di formula 1 quindi è chiaro che secondo me lui ci sta pensandoci e sta valutando tutte le cose e secondo me anche nelle discussioni dietro le quinte con Vasser si è andati già molto avanti anche su dettagli contrattuali e su quale sarebbe il suo ruolo eventualmente all'interno della Ferrari ecco io attualmente non vedo un'altra destinazione per New Way se davvero questo periodo di pausa non sarà eterno e cioè non sarà per sempre e non sembra proprio il caso perché lui parla di nuove sfide l'unica altra grande sfida può essere soltanto la Ferrari ora come questo si realizzerà e quando si realizzerà è più difficile da capire però la vedo come una naturale destinazione sinceramente se dovessi scommettere punterei su New Way alla Ferrari. Allora ci scrive GR buonasera insieme a New Way arriveranno altri tecnici di Red Bull alla Ferrari eh bella domanda. Secondo me qualcuno l'hanno già preso. Quindi vedi ti abbiamo risposto in diretta. Però non so quanto sia quanti facciano parte dei tecnici di punta. Quello che si è capito è che la Red Bull sa di essersi debolita con l'uscita di New Way e sta cercando di blindare i suoi fedelissimi a cominciare dal numero uno da Pierre Vachet il direttore tecnico. Pierre Vachet è direttore tecnico proprio perché lui eh guida operativamente lo sviluppo della macchina durante la stagione. È come se New Way che è il chief technical officer cioè il supervisor tecnico eh desse le grandi linee di direzione dello sviluppo del progetto. E poi Pierre Vachet e il suo team e il team di designer di eh di Milton Keynes le mettono in pratica le sviluppano. Eh per cui eh è diventato molto importante il ruolo di Vachet alla Red Bull e diventa ancora più importante dopo l'uscita di New Way. Eh diventa di fatto il punto di riferimento. Ecco perché la Ferrari lo aveva già cercato. L'anno scorso ricordo. Esattamente quindi proprio sapendo che valore ha eh Vachet eh e aveva già cercato e eh Vachet in un primo tempo aveva detto di no. Poi sembrava propenso a trasferirsi a Maranello quindi ad ad abbracciare questa nuova sfida professionale e ora sembra che sia di nuovo blindato quindi che in qualche maniera lo abbiano trattenuto e e e Horner eh ovviamente eh credo che tratterrà cercherà di rattenere non solo lui ma anche altre figure importanti dello staff e designer di di Milton Keynes. Eh poi che ruolo avrà New Way alla Ferrari se questo matrimonio si concretizzerà eh come questo matrimonio sa da fare citando Manzoni ma sa da fare. Sarà sarà un ruolo molto simile a quello che è adesso la Red Bull. Cioè un ruolo di supervisore dell'uomo che dà le grandi linee di di indirizzo della creazione della macchina ma poi che non sarà tutti i giorni materialmente a Maranello eh anche perché New Way già oggi non è tutti i giorni materialmente Hamilton Keynes anzi come io io mi accontenterei francamente sì sì anche anche una volta alla settimana. Allora ci chiedono fra fantasy game ci chiede a che punto siamo che il reglamento 26 beh più o meno nelle grandi linee è definito anche se io ho anche i team hanno dei grandi punti interrogativi non so Luigi cioè abbiamo questa unità che passa più o meno a mille cavalli ma abbiamo una un aumento notevole della parte elettrica quindi 500 sto buttando più o meno per vedere oppure 800 fai 400 più 400 ma soprattutto mancherà uno dei due motogeneratori che recupera l'energia è come se avessimo un gigantesco cares per intenderci e allora molte volte ti dicono noi come facciamo in certi momenti non sappiamo se riusciamo a ricaricare la parte elettrica quindi la parte diciamo termodinamica dovrebbe lavorare per caricare le batterie insomma è un problema questo non indifferente l'ho detto in maniera molto semplificata naturalmente che idea se l'ho fatto Luigi c'è ancora qualche cambiamento? In realtà in realtà Mariano il punto fondamentale non sono tanto i motori perché sui motori si ha una certa chiarezza regolamentare l'aerodinamica perché sulla definizione di tutti i parametri i paletti che vengono messi nel regolamento per lo sviluppo della macchina teleistico aerodinamico bisognava concludere per l'inizio di quest'anno per dare ai team una possibilità di fare un'idea prima di passare materialmente in galleria del vento dicevo dal gennaio dell'anno prossimo del 2025 e invece questo regolamento ha tardato tardato ha tardato anche perché nel frattempo la FIA ha avuto parecchi scossoni anche la FIA cioè i i vertici tecnici della FIA hanno mollato sono andati altrove eh Nicola Stombasi si è trovato praticamente da solo al vertice tecnico ehm del settore chassi del settore eh monoposto insomma monoposto per cui alla fine questi regolamenti non sono ancora definiti nei dettagli eh lo saranno entro l'estate la FIA tra l'altro credo entro l'estate o entro addirittura settembre la FIA ha ha chiesto una deroga eh per concludere i lavori eh e i team quindi aspettano di avere i parametri definitivi per eh poi progettare le vetture dall'anno prossimo in in vista del duemilaventise dal punto di vista motoristico invece le idee sono più chiare però come dici tu c'è questa abolizione eh del del motore secondo motore generatore elettrico che era collegato al turbo per cui ci sarà un grosso KERS di fatto un solo motore elettrico e un motore termico che devono erogare la stessa potenza c'è l'architettura turbo monoturbo si potrà arrivare a mille cavalli oltre con un motore elettrico che deve erogare l'equivalente di 600 cavalli 500 600 cavalli lo stesso per quanto riguarda il motore termico però c'è questo tema che eh molti si stanno già ponendo di di come far funzionare il motore elettrico ricaricarlo durante l'intero giro mettiamo che ci siano circuiti dove tu non hai quella possibilità di durante il giro caricarlo proprio per il massimo della potenza allora si pone il problema come come lo carica certo perché nelle simulazioni si è visto che proprio in fondo delle retterine c'è un certo calo di potenza perché come a differenza di adesso non si riesce a ricaricare la parte elettrica al cento per cento insomma anche perché tu aumenti la potenza che deve dare la parte elettrica ma nel contempo togli uno di quegli elementi che caricavano diciamo sempre la parte elettrica cioè semplifichi da una parte ma complichi dall'altra e insomma è un bel è un bel rebus questo è un bel rebus io credo che sarà potrebbe essere un po come quando ci siamo trovati all'inizio dell'era delle power unit hybrid nel 2014 grandi differenze motoristiche eh e la mercedes era assolutamente davanti certo riuscì a fare un un lavoro incredibile rispetto alla concorrenza con una capacità di ricarica del del motore elettrico pazzesca che gli garantiva quasi cento cavalli in più della concorrenza nel primo nel primo anno quindi abbiamo benissimo e purtroppo ne abbiamo sottetto di cose quindi bisogna capire se si se si ricrea se si creerà di nuovo una situazione del genere con un competitor che va nettamente in vantaggio rispetto agli altri oppure no cioè se saranno tutti più o meno sul livello paritetico o e ora eh dopo tanti anni di power unit si è raggiunto a un certo equilibrio prestazionale come quando si era raggiunto con i vuoto quando c'era stato diciamo certo e che è frutto anche del congelamento tecnico che va avanti da qualche anno i Ferrari, Mercedes, Sonda sono più o meno tutti a Renault sono più o meno se bisognerà capire chi sarà al vertice motoristico e chi sarà al vertice teleistico. È inutile dire che è una grande occasione per la Ferrari di ribaltare le gerarchie attuali ma non solo per la Ferrari anche per la Mercedes di tornare in primo piano per la Son Martin di fare un grande balzo avanti e vediamo cosa succederà. Allora Luigi per concludere siamo arrivati ai nostri canonici 30 minuti alla nostra mezz'ora volevo chiederti cosa tu ti aspetti appunto da Imola cioè facendo perdere le previsioni che non possiamo fare però è plausibile pensare che la Red Bull possa essere di nuovo in difficoltà oppure a un circuito che tra l'altro dovrebbe esaltare le caratteristiche di una Red Bull tanti saluti e baci. No no non credo sinceramente non credo che l'ultima gara di New Way al muretto sia coincisa con l'inizio della crisi della Red Bull no no non ce lo vedo questa questa coincidenza starale credo che sia stata singolare per cui mi aspetto che la Red Bull torni ai suoi livelli anche perché Imola è una pista che si presta bisognerà batterla o comunque lottare per batterla sul campo facendo dei grossi miglioramenti prestazionali e spero che la Ferrari sicuramente si avvicini cioè sarebbe già bellissimo vedere una gara combattuta una gara dove il risultato incerto poi se vincerà ancora Max pazienza ma già vedere una Ferrari vicina che lotta che impensierisce Max come succedeva a Lenzo il 2022 sarebbe bellissimo sarebbe sarebbe uno spettacolo insomma bene Luigi intanto ti ringrazio per l'ennesima volta di essere nostro ospite naturalmente ti sfrutteremo altre volte se tu sarai sarai della parte ricordo agli amici e amici all'ascolto che poi troveranno il naturalmente potranno rivedere la puntata in formato video e da domani la troveranno anche in formato podcast abbiamo un nutrito gruppo di persone che seguono la speed stop anche tramite il podcast in tutte le piattaforme naturalmente Luigi ancora grazie e a risentirci arrivederci saluti a tutti e un abbraccio grazie a tutti